bello tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale oggi siamo qui con l'undicesimo episodio della carriera allenatoria con il nostro Grescia questa è la classifica, sono passate 25 giornate, abbiamo 35 punti e il settimo posto è a meno 7 con il Torino a 42 ce la possiamo ancora fare, però noi abbiamo una partita in meno in confronto al Torino quindi potenzialmente andrebbero a meno 10 occhio, occhio, occhio è difficile oggi affronteremo Sassuolo e Fiorentina sì, Sassuolo e poi Fiorentina la formazione, adesso ve la faccio vedere dovrebbe essere questa, sono stanchi perché ho appena finito di giocare contro il Napoli se dovremmo comunque giocare con questa formazione direi di procedere e noi poi ci vediamo direttamente in campo la formazione, ho deciso di fare un cambio, metto Venuti al posto di Ghiglione perché è venuto in forma e dono ancora una chance a Kutuku al posto di Siligardi poi per il resto formazione confermata, sì tutto pronto signori, sta per incominciare Sassuolo-Brescia giochiamo in trasferta, non è facile, comunque contro il Sassuolo vedremo quello che riusciremo a fare le squadre sono in campo battere al calcio in inizio Ciccio Caputo, iniziatora, Sassuolo, Brescia Camara, Camara, Camara Harlesin fermato da Venuti attenzione, Sassuolo, è tutto Venuti Ciccio Caputo, ancora per Harislin Harislin va grosso, ce lo pieghe in mezzo ma Tonali allontana Romulo, Romulo rientra, Romulo Balotelli 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 il gol di Super Mario Balotelli nella realtà viene resciso il contratto ma da noi fa gol 1-0 Brescia il gol di Super Mario mi ha fatti gol Super Mario, mi ha fatti tanti non so quanti però su 16 siamo tutti a cercare Romulo verticale per Mario Balotelli Super Mario sbaglia tutto, però calcio d'angolo sì, sì, corner, corner, sarà corner per noi Tonali Balcross cercare Balotelli consiglia lontana con i pugni Romulo è lì recuperata palla Tonali mi tacco per Romulo di prima in mezzo a cercare Bisoli Balotelli aggancia Harlesin che a campo finisce qua il primo tempo 1-0 per il Brescia noi ci vediamo nel secondo tempo tutto pronto signori sta per incominciare il secondo tempo di Sassuola Brescia si parte al risultato di 0-1 per noi col gol di Super Mario Balotelli iniziato ora il secondo tempo Venuti subito in verticale per Romulo facciamo correre Romulo punta dietro per Balotelli Bisoli Tonali Sandro verticale per Borca gira per la ridà Balotelli ma fermato tutto Cutucu recupera palla e ripartiamo con Cutucu che ci sta facendo una bella partita Borca a cercare Balotelli fermo Balotelli dentro per Romulo Romulo sbaglia sbaglia tutto è incrociato male Romulo settantesimo dovevano entrare Occhio al cross Tonali chiude attenzione due minuti di recupero 30 secondi se ne sono già andati Toyano ultimo assalto per il Sassuolo di 11 c'è di tacco Kamara dietro per Kirich finisce qua vince il Brescia 0-1 in casa del Sassuolo decide il gol di Super Mario Balotelli tutto pronto signori per giocare la partita contro la Fiorentina anche questa fuori casa la formazione la modifichiamo un attimo perché Cutucu non gioca ma gioca a Siligardi e gioca a Ghiglione al posto di venuti poi per il resto confermata sì per il resto confermata questa è la formazione le divise sono queste e noi signori ci vediamo in campo inizia ora Fiorentina Brescia Caceres Ribery occhio a Frank subito bene recuperata la palla da Romulo dietro Balotelli Tonali Murru verticale per Siligardi dentro per il nono Borca che prova a cercarsi lo spazio recupera un bene palla attenzione sbaglia tutto ancora Borca Valero attenzione Badel Ribery occhio alle sue finte Romulo recupera palla riparti Romulo attento per Balotelli di prima per Borca finta Tonali una scurregetta per cercare Balotelli balo Balotelli prova sarà calcio da calcio d'angolo terracciano non importa Tonali Balcross Balotelli non la tiene in campo Tonali sarà rimessa per noi balo subito per Tonali Romulo a cercare Borca fermato Murru Bisoli Borca Valero ci prova era un po' lo defilato ancora Borca chiude Milenkovic e spazza raggio rimessa ancora per noi Siligardi tetto ancora per Borca ok signorarvi trocchi le maglie in aria finisce qua il primo tempo 0-0 molto equilibrato noi ci vediamo nel secondo tempo tutto pronto signori sta per incominciare il secondo tempo di Fiorentina Brescia lo batterà Super Mario inizio ora il secondo tempo di Fiorentina Brescia Biraschi subito per Ghiglione di prima in verticale per Romulo Borca allarga bene per Siligardi chi chiede l'1-2 con Super Mario Super Mario gliela ridà Siligardi Valclos Borca Valero non ci arriva Bisoli di destra la prende Tonali sbaglia lo stop qua me è entrato anche lui chiesa dai cutu occhio qua me Melu attenzione parla dentro per Rivery che punta Romulo dietro per Duncan attenzione Alfred Duncan Melu fermato da un grande intervento di Cistana dai riparti dai di là per Cutu aie tetro per Cutu un po' corta la palla però ci arriva Cutu a campo lo sfrutta segna per noi Cutu segna per noi Cutu 1-0 Brescia Biraschi è entrato Biarnason per questi ultimi minuti Balotelli aie Quara Mario dentro per Florian aie recuperano ripartono forse non c'è più tempo forse sì 2 finisce qua il Brescia batte anche la Fiorentina all'altare mio Franchi di Firenze 0-1 come il stesso risultato del Sassuolo due vittorie importantissime grandi continuiamo così siamo arrivati alla fine se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivetevi al canale mi raccomando molto importante noi ci diciamo un prossimo video bella ragazzi